So di correre quasi senza le gambe, ma le battaglie che si perdono sono quelle che non si fanno. Con queste parole l'ex assessore provinciale Teresa Nannarone ha annunciato in una conferenza stampa di non rinunciare alla candidatura alle primarie del 13 gennaio e di andare avanti ugualmente, nonostante i gravi problemi familiari che la stanno attanagliando dal 24 dicembre. La situazione ha spiegato è abbastanza seria, per questo avevo pensato di rinunciare. Le firme alla scadenza del 27 dicembre mi sono state però generosamente raccolte da chi mi sta vicino. La candidatura pertanto non la ritiro e la metto a disposizione della città, anche se la grave situazione familiare non mi consente di affrontare la campagna elettorale. È un dovere da parte mia nei confronti del mio partito, nei confronti della città, nei confronti delle tante donne, uomini che mi hanno chiesto di non mollare, nonostante un periodo veramente difficile per me. Teresa Nannarone ha reso noto inoltre di aver chiesto espressamente agli altri di posticipare le primarie per venire incontro alle sue esigenze, ma due candidati su quattro si sono posti, mentre Iannamorelli e Gatta avevano detto che andava bene, ha spiegato Ranalli e Giannantonio, hanno invece detto no al rinvio. Che necessità c'è di volere le primarie a tutti i costi subito? Se si voterà tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, si chiede l'ex assessore provinciale. Come giudica chi si è opposto al rinvio delle primarie? Lo giudico al contrario di me, di come giudico me stessa perché io non l'avrei mai fatto. Se un mio collega avesse avuto un problema io sarei stata la prima a dire rinviamo, perché credo che il rispetto, l'umanità, la comprensione debbano appartenere a chi fa politica, soprattutto a chi la fa nel centrosinistra. Il cinismo non mi piace, non riesco a essere cinica, non mi piacciono quelli che sono cinici e penso che non possano portare niente di buono a questa città. Quindi li giudico in maniera non positiva. L'auspicio infine che al termine delle primarie, indipendentemente da chi vincerà, possa ricomporsi la coalizione di centrosinistra. E quindi ha lanciato un monito a chi adesso ha deciso di non partecipare alle primarie. Sì, io sono molto dispiaciuta sia del Partito Socialista che di Sumona Democratica, anche del Movimento Sumona Bene Comune con cui ho avuto dei colloqui che non hanno inteso partecipare alle primarie. Io spero che nel lungo tempo che divide le primarie dal voto amministrativo che presumibilmente ci sarà a maggio-giugno, si trovi il modo per riunire. Il mio primo obiettivo è riunire centrosinistra sul Mona. Senza un centrosinistra unito non si può governare, non si può governare bene. Credo la città è allo stremo e chi ha senso di responsabilità deve lavorare ad unire e non a dividere. I personalismi e le questioni passate devono essere superate per il bene della città. Voglio far parte a concluso di una battaglia che incominci dalle primarie per riprendere la città. La decisione di non tirarmi più indietro nasce anche dalla volontà di molte donne di votare per una donna. Votate il cambiamento perché i miei colleghi che si sono candidati, alcuni sono stati già in Consiglio Comunale e mi sembra che insieme a questa maggioranza non abbiano fatto cose buone per questa città. Quindi c'è bisogno di discontinuità. E poi soprattutto, votate una donna, non lo dico solo alle donne, alle tante donne che mi hanno chiesto di candidarmi, ma lo dico anche agli uomini perché è un momento di svolta che la città necessita e secondo me è una svolta culturale e anche quella di dare fiducia finalmente ad una donna.